Attenzione, voi a casa e le radio, 50% hanno decretato la classifica di questa sera. Ricordo, vedremo solo la top 5, le altre posizioni assolutamente segrete così come gli altri giorni e tutto verrà svelato sabato in apertura. Quindi, top 5 di questa serata, televoto radio. Attenzione a casa, al quinto posto per il pubblico a casa e le radio, chi c'è? Vediamo. Mr. Rain, due altalene. New entry? Sì. New entry, new entry. Prego, Teresa, chiama tu la quarta posizione. Al quarto posto della top 5, televoto e radio, c'è? Il 3! Fragili, il 3! Saliamo, terzo posto, sempre televoto e radio, dei 15 cantanti di questa sera. Chi c'è al terzo posto? Alessandra Amoroso, fino a qui! Tutte nuove. Tutte nuove, chiaramente, rispetto a ieri la metà, ma anche rispetto al primo giorno. Vedete che quest'anno sarà molto difficile, sarà molto difficile stilare una top 5. Sono tutti brani fortissimi. Dico il secondo. Certo. Al secondo posto della top 5 di stasera c'è? Gali, casa mia! Gali! Gali! Allora, attenzione. Quinto posto, Mr. Rain, due altalene. Quarto posto, il 3, fragili. Terzo posto, Alessandra Amoroso, fino a qui. Secondo posto, Gali, casa mia. E per il televoto e le radio questa sera, al primo posto c'è... Angelina Mango! La noia! Angelina Mango!